16 aprile, Santa Bernadette Subiru. Chi era Bernadette? La figlia di un mugnaio ridotto alla miseria, una pastorella semplice sottomessa alla sua nutrice a Bartres, una religiosa incompresa, umiliata ma obbediente nel convento di Nevers, una ragazza che ha consumato consapevolmente e generosamente la sua breve vita nella sofferenza. Soprattutto Bernadette è una sconvolgente testimone e messaggera dell'Immacolata all'uomo di ogni tempo. 7 gennaio 1844. Nasce al mulino di Bolì dai coniugi Francesco Subiru e Luisa Casterot. Il 9 gennaio viene battezzata nella chiesa parrocchiale di Lourdes, San Pietro. Le vengono dati i nomi di Maria Bernarda. I padrini sono Giovanni Veder e la zia Bernarda Casterot. Novembre 1844. Bernadette ha circa dieci mesi. La madre, a causa di una disgrazia, perde il latte e non può più nutrirla. Viene mandata a Bartres, a Baglia, presso Maria Lagues, amica di Luisa. Questa nel parto aveva perduto il figlio Giovanni. 1 aprile 1846. Bernadette ha ormai 26 mesi. È l'età dello svezzamento. Torna da genitori al mulino di Bolì e vi resta fino al 24 giugno 1854, data in cui Francesco Subiru abbandona definitivamente il mulino, iniziando il suo dramma di miseria e sofferenza che lo condurranno al cachot. Autunno 1855. A Lourdes scoppia la peste. Bernadette ha undici anni e ne rimane colpita. Le sue piaghe vengono curate rudimentalmente e ripetute frizioni con strofinaggi di paglia mettono nudo le sue per eliminare la parte cancerosa e medicarle. Con questo metodo dolorosissimo ma efficace guarisce ma prende l'asma. Le resterà per tutta la vita, anzi ad essa si aggiungerà la tubercolosi ossea alle gambe e saranno proprio l'asma e la tubercolosi che la condurranno alla tomba all'età di 35 anni. Novembre 1856. Francesco si è ridotto alla miseria più cruda. È senza un lavoro stabile, senza una casa, in mezzo ad una strada con moglie e quattro figli. Prende alloggio alla meglio nel Cachot, una stanza umida e malsana di ex carcere offerta lì in prestito dal cugino Andrea Sayu. Bernadette ha 13 anni e segue la sorte della famiglia. Settembre 1857. Bernadette torna a Bar 3 dalla sua baglia, Maria Lague. Questa ha bisogno di aiuto e cerca qualcuno che sappia fare tutto, pascolare il gregge, svolgere i servizi di casa, soprattutto occuparsi del piccolo Giovanni di appena due anni. La vita a Bar 3 è dura ma per Bernadette sotto ogni aspetto. In questo clima di durezza e sacrifici cerca di studiare il catechismo per prepararsi alla prima comunione. Trova molte difficoltà sia per mancanza di tempo, sia per le sue capacità intellettive molto limitate. È significativa la risposta che un giorno diede al parco di Bar 3. È più facile mettermi il libro del catechismo dentro la testa che imparare la lezione. 21 gennaio 1858. Il clima di durezza e sacrifici a Bar 3, la solitudine e la nostalgia della famiglia, il desiderio di prepararsi con più calma e possibilità alla prima comunione, inducono Bernadette a tornare a Lourdes. È appunto giovedì 21 gennaio. Al Cachaud ritrova la miseria, l'umidità, il puzzo di una stanza oscura e stretta. Ritrova però il calore dei genitori, la compagnia di Antonietta e dei fratelli. 11 febbraio 1858. Sono circa le 11 del mattino di giovedì grasso. C'è una nebbia fitta, umida, tipica di Lourdes. Al freddo e al malsano Cachaud non c'è più legna. Bernadette, la sua sorella minore Antonietta e l'amica Giovanna Abadie si recano nella zona di Massabielle per fare il tesi un rumore simile a un colpo di vento. Alzai gli occhi verso la grotta e vedi una signora vestita di bianco. Aveva un vestito bianco, un velo anch'esso bianco, una cintura azzurra e una rosa gialla su ogni piede. È l'inizio delle apparizioni. Comincia la singolare missione di Bernadette. Nasce Lourdes come centro mondiale di pellegrinaggio. 12 giugno 1858. Ieri, 12 giugno, festa del corpo e sangue di Cristo, Bernadette ha fatto la prima comunione nella cappella dell'ospizio. Sembrava veramente cosciente e compenetrata dell'avvenimento. Durante il ritiro di preparazione spirituale, il suo comportamento, il suo raccoglimento, la sua attenzione sono stati veramente encomiabili. Tutto si è svolto in lei in maniera meravigliosa. Lettera di Peyramal a Monsignor Lawrence. Bernadette ha 14 anni e mezzo. 11 febbraio, 16 luglio 1858. È l'arco di tempo nel quale sono avvenute le 18 apparizioni. L'Immacolata, il più delle volte, ha semplicemente pregato con Bernadette e si è lasciata contemplare. Altre volte le ha parlato e ha dato degli ordini lasciandoci il messaggio e la spiritualità di Lourdes. 15 luglio 1860. Bernadette viene ricoverata nell'ospizio di Lourdes per un ennesimo attacco di asma. Ve resterà fino alla partenza per il convento di Nevers nel 1866. 9 maggio 1866. Viene inaugurata la cripta a Lourdes da Monsignor Lawrence. È la prima risposta concreta al desiderio dell'Immacolata. Voglio che qui si costruisca una cappella. Bernadette è presente. È stata rinviata appositamente la sua partenza per il convento. 4 luglio 1866. Bernadette ha lungamente e serenamente riflettuto sull'indirizzo da dare alla sua vita. Ha deciso di farsi suora. Sceglie l'ordine delle sore della carità di Nevers. Prima di partire per il noviziato a Nevers va a fare l'ultima visita alla grotta di nascosto e investita da religiosa. Non vi tornerà più. 7 luglio 1866. Entra nel convento di Saint-Gildard. Trova molta difficoltà ad ambientarsi incontra contraddizioni ed umiliazioni sia da parte delle sore che da parte della madre maestra, sua Maria Teresa Wauzot. 30 ottobre 1867. Bernadette fa la sua professione religiosa insieme ad altre 43 novizie. La cerimonia si svolge nel salone del noviziato del convento davanti a Monsignor Forcade, vescovo di Nevers e dalla madre generale dell'ordine, Suor Inbert. Ad ogni suora viene affidato un incarico ed una destinazione. Bernadette resta a Nevers perché è ritenuta una incapace e perché è malata. le viene affidato il compito di prestar servizio nell'infermeria del convento ed aiutare in cucina. 28 marzo 1878. E' colto da un ennesimo attacco di asma. Si aggrava sempre di più. Le viene prima amministrato il viatico, poi l'unzione degli infermi. La quarta volta dal 1868. Per l'occasione si esprime con la seguente battuta scherzosa. Ogni e qual volta mi avete amministrato l'unzione degli infermi, sono guarita. È un buon rimedio. Questa volta Bernadette migliorerà appena, ma non guarirà. 14 aprile 1879. È sul suo letto di dolore. Con voce flebile e quasi interrotta dal grosso respiro, dice a Suor Leontina. Sono macinata come un chicco di grano. Non avrei mai immaginato di dover soffrire tanto. In questa espressione c'è la sintesi di tutta la vita sofferente di Bernadette. 16 aprile 1879. Ancora attacchi di asma, seguendo il consiglio medico, viene adagiata su di una poltrona per facilitarle la respirazione. Muore alle ore 15. L'asma e la tubercolosi ossea alle gambe l'hanno logorata lentamente, conducendola alla tomba all'età di 35 anni e qualche mese. Tutta la sua vita, tutta la sua missione, tutto il suo messaggio un giorno lo ha scritto su di un pezzo di carta. Obbedire è amare. Soffrire in silenzio per Cristo è gioia. Amare sinceramente è donare tutto, anche il dolore. 8 dicembre 1933. È la festa dell'Immacolata. È l'anno santo indetto straordinariamente da Pio XI per ricordare la redenzione. Lo stesso Pio XI proclama Bernadette santa. In occasione della ricognizione per il processo canonico di santificazione, il corpo di Bernadette è stato trovato in perfetto stato di conservazione. Oggi intatto e ricoperto da un sottilissimo strato di cera per la conservazione, il corpo riposa nella cappella del convento di Nevers in un'urna di bronzo e cristallo. A Lourdes, Bernadette è vicino al malato con il messaggio della sua sofferenza vissuta nella speranza e nella gioia. È vicino al pellegrino con la testimonianza della sua vita e con il messaggio dell'Immacolata. Grazie. 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 Grazie.